il tau patch è un dispositivo medico che migliora la postura e il movimento agendo direttamente sul sistema proprio eccettivo ogni movimento del corpo infatti è gestito da una sorta di software biologico uno scambio continuo di informazioni tra sistema nervoso centrale una fitta rete di sensori questa comunicazione può essere disturbata dall'inquinamento elettromagnetico l'inquinamento chimico allo stress a cui siamo sottoposti tutti i giorni tutte queste situazioni creano delle tensioni che nel tempo si traducono in squilibri posturali tau patch si applica il corpo con l'ausilio di nastro cerotto non rilascia nessuna sostanza chimica ma stimola il corpo attraverso degli impulsi sotto forma di fotoni che possono essere utilizzati dal sistema per un aumento del benessere globale è una tecnologia sperimentata scientificamente in doppio cieco realizzata in italia che non ha effetti collaterali e può essere utilizzata dal medico dal fisioterapista dall'odontoiatra per darti un cambiamento posturale misurabile subito un metodo rapido efficace ed economico per darti sostegno nella vita di tutti i giorni e che ti può anche aiutare a conservare a lungo nel tempo i risultati delle altre terapie